Prosegue a Rimini l'operazione della Guardia di Finanza denominata Fake Buster che già dallo scorso anno ha come obiettivo la guerra ai prodotti contraffatti. Già nel 2017 le fiamme gialle avevano intensificato i controlli sotto questo punto di vista arrivando a effettuare i veri e propri sequestri record. È il caso ad esempio del magazzino in cui lo scorso 25 aprile sono stati rinvenuti oltre 17 mila prodotti contraffatti nel settore dell'abbigliamento in particolare articoli sportivi come maglie delle squadre di calcio e altri prodotti recanti le firme taroccate di diversi campioni dello sport. Gli ultimi due interventi invece risalgono al 19 al 22 gennaio. Nel mirino dei finanzieri sono finiti questa volta alcuni negozi gestiti da cittadini bengalesi dove sono stati individuati e sequestrati oltre un milione e 600 mila prodotti provenienti dalla Cina considerati pericolosi per la salute del consumatore. Si tratta di oggetti di qualsiasi genere orologi bracciali orecchini arrivando fino alle classiche chiavette usb che non riportavano alcuna informazione sulla provenienza sui materiali utilizzati per la produzione nonché sulle prescrizioni di impiego previste dal codice del consumo dirette a garantire la completa e corretta informazione a beneficio dell'acquirente finale. I due esercenti trovati in possesso del materiale sono stati quindi segnalati alla camera di commercio di Rimini che provvederà ad applicare le previste sanzioni pecuniarie mentre gli investigatori proseguiranno le indagini per individuare le responsabilità in capo agli importatori della merce.